Un vero e proprio grido d'allarme è quello lanciato dal dirigente scolastico del liceo scientifico Vincenzo Cuoco di Napoli, il professor Mario Guida. In controtendenza con gli attuali dati scolastici, all'antico istituto situato al centro di Napoli, nel quartiere Stella, pochi passi da Via Foria, servono più aule. I problemi di questo liceo esistono da anni e stiamo cercando con l'aiuto della provincia e anche con l'aiuto del comune di superarli, di risolverli. Quali sono questi problemi essenzialmente? Sono problemi di spazio, problemi di aule, problemi di strutture. Una sorta di controtendenza, qui c'è problema di crescita possiamo dire? Esattamente perché dall'anno scorso, quando abbiamo avviato l'indirizzo di scienze applicate, le aule necessarie alla istituzione sono senz'altro di più. Se prevediamo lo sviluppo di queste scienze applicate avremo bisogno da qui a pochi anni di 10 aule in più. La provincia deve provvedere, la provincia sta cercando di provvedere con l'aiuto del comune. Noi stiamo sollecitando i due enti perché la soluzione si abbia in quanto avere aule significa rendere il servizio a tutti e a tutti gli studenti, secondo il loro orario e con l'agio giusto per la didattica. 30 secondi, l'appello del dottor Mario Guida, del dirigente scolastico del Vincenzo Cuoco. Allora che la provincia e il comune di concerto operino perché noi possiamo crescere in questa sede, la succursale educandati femminili perché è una bellissima struttura ed è un vero peccato tenerli in abbandono mentre noi abbiamo bisogno di aule. Grazie. Grazie.